Dieci persone che hanno deriso il Dio. Numero dieci. John Lennon. John Lennon è stato il cantante dei Beatles, molto famoso. Il 4 di marzo del 66, in una intervista americana, ha detto che il cristianesimo finirà, sparirà. Io non devo discutere su questo, sono certo. Gesù era ok, ma era un sempliciotto, anche quello che diceva noi siamo più famosi di Dio. Lennon, dopo aver asserito questo che erano più famosi di Dio, fu ucciso da un proprio fan. Numero nove. Tancredo Neves. Tancredo Neves è stato un candidato presidenziale del Brasile. fra il 1910 e l'85, disse se raggiungo più di 500.000 voti, neanche Dio impedirà che io diventi presidente. Bene, riuscì a raggiungerli, ma prima di diventare presidente morì. Numero otto. Thomas Andrew, il creatore del Titanic, nel 1911, dopo la costruzione del Titanic, che un giornalista gli chiese che sicuro è questa nave. Lui ebbe a rispondere che nessuno può affondarlo, neanche Dio. Beh, subito dopo, come ben sappiamo tutti, affondò. Numero sette. Marilyn Monroe. Questa attrice famosa è stata visitata da Billy Graham, un evangelista americano, durante una presentazione, e gli disse mi manda lo Spirito Santo per predicarti l'Evangelo. Lei lo ascoltò e poi gli rispose io non ho bisogno del tuo Gesù. Una settimana dopo, in domenica successiva, è stata trovata morta nel proprio appartamento. Numero sei. Bon Scott, il cantante degli S.E.D.C., in una delle sue canzoni, non mi fermare Dio, io sto scendendo tutta la strada, sto scendendo verso l'inferno. Subito dopo averlo detto, nel 1980, è stato trovato morto, affogato nel proprio vomito. Numero cinque. Christine Ewitt, è stata una giornalista, animatrice giamecana molto famosa, ebbe a dire la Bibbia è il peggiore libro che sia mai stato scritto. Nel 2006 è stata trovata bruciata, impossibile da essere riconosciuta. Numero quattro. Agenor de Miranda Netto, è stato un compositore bisessuale, brasiliano, cantante, poeta. Durante una mostra, mentre fumava la sua sigaretta, emanò del fumo e disse, Dio, questo fumo è per te. Il scherno, subito dopo, fu trovato morto all'età di 32 anni. Numero tre. Campignas, Brasile. Nel 2005, in Brasile, un gruppo di amici ubriachi sono passati a prendere una giovane, la chiamarono e dietro la giovane uscì fuori la madre e la madre gli prese la mano e gli disse, figlia mia, che Dio vada con te e che ti protegga. E lei rispose in modo di scherno, solo se Dio viene nel portabagagli. e subito dopo la macchina fu trovata distrutta e ovviamente il portabagagli intatto, questo non è stato detto. Numero nove. Questa donna ha cercato di togliere il termino God sulla banconota e poi disse di essere... Gli fu detto di mettere una... era troppo veloce. Ugo Chavez è stato un presidente del Venezuela nel 2010 mentre veniva ripreso in modo molto furioso maledisse lo Stato di Israele dal più profondo delle proprie viscere e gli è venuto un cancro proprio nelle proprie viscere. Il martes 5 di marzo di 2013 è stato un luogo di fare direttamente di diritto dal voto di diritto Grazie a tutti.